Anche se fossero state dette queste cose, fossero anche vere, comunque sia, che cosa cambia? Cioè non cambia nulla fondamentalmente. Prego. No, 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 no. No, cioè mi sembra assurdo questa cosa di continuare ad andare contro le vittime dopo che ci sono tutte le prove di quello che è successo e denigrarle. In realtà si denigrano loro da soli facendo così. Ma se tu sei amica di Genovese, sei stata amica. Certo, assolutamente. Quando Genovese uscirà e magari te lo troverai davanti tu? Io spero di trovarlo. Ma che cosa gli direi? Perché non voglio parlargli assolutamente. Cosa gli direi? Io spero sinceramente che si faccia... Perché lui forse in questo momento in carcere la sta seguendo. Io gli auguro veramente che... Cosa gli diresti? Io gli auguro e gli direi che se realmente... Parlagli in camera. Cioè mi piacerebbe che lui ci sta guardando sicuramente in carcere. Io spero vivamente che tu ti sia resa conto di quello che è successo a queste ragazze perché non è umano. E io non ti ho mai conosciuto per questo. Quindi è ancora peggio per me vedere una roba del genere, sentire tutte queste cose verso di te. Perché non eri tu, tu non eri così. Nell'ultimo periodo avrei avuto i tuoi problemi sicuramente, però non giustifica minimamente quello che è. Hai rovinato delle ragazze. Io spero ovviamente che tu ti faccia curare e che riesca a capire l'errore madornale che hai fatto. Può essere che il fatto di aver lasciato rotto il rapporto con la sua fidanzata lo abbia così portato fuori rotta ulteriormente? Sicuramente lo può aver portato fuori rotta, però comunque un tradimento, un lasciarsi con la fidanzata... Sì, ma che abbia peggiorato, per quello che hai conosciuto tu, io non lo conosco. Mi hanno detto in molti che è peggiorato molto, è diventato più aggressivo dopo. Sì, verso la vita in generale. Intollerante verso tutto. Intollerante verso il mondo intero dopo. No, no, ma noi stiamo cercando di capire psicologicamente. No, lo so, però Massimo, c'è gente che ha problemi molto più devastanti di una fidanzata che ti lascia. E non va in giro a violentare ragazze drogandole e rendendole delle bambole. Infatti io non lo so, c'è gente. Non mi dispiace, ma io più vedo le immagini... No, 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 ce l'ho con te, ce l'ho con le ali, con le ali... Ma i reati sono anche i precedenti, noi stiamo parlando, però... No, 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 parlo di lei. Ciao.